benvenuti in un nuovo appuntamento dedicato alle interviste sull'innovazione a scuola oggi ho una collega della scuola secondaria di primo grado ma oltre a collega come insegnante è collega co leader di g e g italia marilena ferraro ciao debbora grazie grazie dell'invito e poi aggiungeremo siamo diventate amiche perché stiamo condividendo delle bellissime esperienze grazie volevo dire da pochissimo stiamo facciamo parte entrambe del del programma per l'innovatore di google quindi l'academy e quindi abbiamo iniziato siamo studentesse in due gruppi diversi ma facciamo finta sui social di litigare in realtà ci vogliamo bene riusciamo dai alla fine non ci riusciamo perché diventa tutta una battuta mi siamo felici perché siamo in 12 italiani quest'anno ed è penso non penso è la prima volta che c'è un numero così nutrito di italiani quindi diciamo che anche grazie a g italia questo mondo sta entrando a far parte anche del nostro del nostro paese no e quindi da vedremo dove andremo grazie dell'invito e iniziamo dai marilena presentati presentati sul mio canale bene allora sono marilena ferraro sono una docente di lettere della scuola secondaria di primo grado come diceva prima debora e sono anche una giornalista infatti oggi sono dall'altra parte della parte dell'intervistata e oltre a questo sono appassionata di innovazione didattica metodologica e soprattutto digitale e digitale partendo dagli strumenti google quindi dei tool della google workspace perché come diceva debora prima noi condividiamo un percorso insieme quindi dopo aver iniziato come google educator 12 trainer io ho fatto anche il percorso da coach e adesso condividiamo il percorso da innovator e la bellissima esperienza di g italia questo gruppo di educatori google che veramente ci ha unito per la passione che abbiamo nella condivisione e quindi ecco sono felice di essere anche qui con te oggi proprio per parlare di scuola parlare di tante esperienze che condividiamo ormai da anni e il mio istituto è l'istituto comprensivo antonio gramsci di aprilia una città insomma in provincia di latina vicino vicino roma e insegno come ho detto lettere quindi italiano adesso poi prima ho insegnato anche storia e geografia bene allora ma iniziamo con la prima domanda sicuramente io non sono una giornalista però vabbè ti faccio lo stesso l'intervista assolutamente la prima domanda è che cos'è per te l'innovazione a scuola oi bella bella questa domanda perché ne parliamo sempre di innovazione con il nostro programma google è innovator e quindi parliamo di innovazione di innovazione sempre ma quando ci fermiamo a riflettere molte persone pensano che l'innovazione sia sinonimo di digitale di portare la tecnologia ma non credo che sia solo questo quindi parlerei più di innovazione educativa quindi quell'aspetto che noi insegnanti educatori portiamo nelle scuole per diffondere attraverso metodologie didattiche particolari sì ma quell'attenzione particolare agli alunni mettere l'alunno al centro del processo formativo che spesso sentiamo materialmente deve essere il punto centrale del concetto di innovazione quindi analisi dei tempi quindi analisi di quello che succede di quello che cambia nella società quindi l'insegnante al di là che sappia o meno insegnare con le tecnologie o con le nuove tecnologie deve cambiare mentalità deve cambiare filosofia deve cambiare approccio ecco il punto diciamo nodale di tutta la di tutto il concetto della dell'innovazione e si può adesso fare questo ragionamento nelle scuole un po' siamo pronti nel senso che siamo già in un percorso avviato voi per un momento di crisi pandemica ma siamo entrati in quell'ottica di cambiamento non tutti lo hanno accettato pienamente però si ci si rende conto che il processo il processo avviato quindi un cambio di mentalità l'innovazione nella scuola ma non lo può fare un singolo non lo può fare un singolo docente il singolo docente può fare da traino ma poi serve il gruppo la condivisione come abbiamo detto prima l'importanza di condividere buone pratiche di condividere idee e anche difficoltà perché superando le difficoltà si riesce a portare effettivamente qualcosa di nuovo ad apprendere qualcosa di nuovo e a concretizzare qualcosa di nuovo nelle scuole quindi io direi innovazione didattica educativa e cambio di mentalità e poi la tecnologia le diciamo le applicazioni digitali ci danno una mano perché l'ambiente digitale come sappiamo oltre essere creativo è inclusivo e permette quindi di apprendere tutti in modo anche coinvolgente bene mi piace perché ti fai anche le domande da sola che dobbiamo fare diciamo il il guizzo da giornalista ogni tanto viene fuori no la seconda domanda invece più sulla tua scuola però puoi scegliere di parlare della tua scuola dove lavori ora o della scuola in italia in generale quindi se secondo te oggi dopo tutto quello che hai detto no abbiamo vissuto la scuola è innovativa secondo te ma guarda in generale ci stiamo andando verso l'innovazione c'è ancora tanta tanta strada da fare parlando in generale perché prima nella mia presentazione non l'ho detto ma sono anche formatrice non solo formatrice google ma anche formatrice di metodologie didattiche inclusive e creative metto sempre al centro l'inclusione perché potrei essere una docente di lettere sono anche una docente di sostegno specializzata sul sostegno didattico quindi per me è il primo punto su cui organizzare tutto il processo di apprendimento dei nostri dei nostri ragazzi quindi la strada è ancora è ancora lunga però se riuscissimo tutti noi insieme a importare all'interno delle nostre scuole questo cambio di mentalità piano piano riusciamo a fare la differenza e questo dal generale adesso arriva al particolare della mia della mia scuola perché è quello che sto tentando di fare da diversi anni nel mio istituto ultimamente in questo in quest'anno proprio inauguriamo la prima classe 4.0 sezione dedicata appunto al al 4.0 quindi l'utilizzo del digitale nella pratica nella pratica didattica è stato un percorso difficilissimo lungo perché prima della pandemia il digitale era era considerato quasi ostativo all'apprendimento piano piano si prende familiarità con gli strumenti perché quando non si conoscono fanno paura e quindi vengono demonizzati man mano che invece si prende familiarità con gli strumenti si si rende conto che è un vero e proprio ambiente di apprendimento costruttivo per tutti impegnativo però costruttivo quindi dopo tanti anni io sono riuscita a creare un team di docenti che sono pronti all'innovazione didattica sono pronti a mettersi in discussione e a prendere nuove metodologie e nuovi approcci didattici con o senza la tecnologia e quindi a prescindere dal discorso della classe 4.0 loro sono partiti proprio dal concetto mi voglio mettere in discussione voglio capire che cosa posso dare di più e questo è un approccio importantissimo per il docente che vuole innovare la propria professione e non rimanere statico e annoiarsi perché secondo me la cosa più brutta quando lavoriamo Deborah è quando ci annoiamo quindi se ci annoiamo noi figuriamoci i nostri ragazzi per cui dobbiamo noi prendere appunto spunto dai ragazzi no dal fatto che loro non si debbano annoiare non ci dobbiamo non ci dobbiamo annoiare anche noi quindi metterci in gioco in discussione ed essere curiosi nel scoprire nuove metodologie nuove tecniche didattiche da portare in classe quindi quest'anno siamo riusciti in via sperimentale a partire con una classe poi diventerà tutta la sezione in verticale ed è stata una sfida grandissima di cui sono veramente orgogliosa perché i colleghi pur avendo tanti timori e tante paure hanno deciso come ho detto di mettersi in gioco e mi chiedono tutti i giorni la possibilità di conoscere di più di quello che già stanno imparando a conoscere e quindi è per me nella mia scuola è un grande un grande risultato ma non deve essere un'unica sezione non deve essere un progetto pilota dovrebbe diventare così in tutta la scuola che devo dire che ogni studente avrà un dispositivo giusto un dispositivo ogni alunno ha un dispositivo noi adesso abbiamo un laboratorio mobile con i chromebook però i nostri ragazzi adesso in via sperimentale utilizzeranno il biode quindi portano il loro device chi non ha il device ovviamente usa il chromebook della scuola poi arriveremo a fornire noi insomma tutti il device poi se va avanti insomma il progetto anche con il piano scuola 4.0 del pnrr il punto è che ripeto deve diventare estesa deve essere estesa questa questa idea che non deve essere solo pilota sperimentale ma poi dovrà diventare una una realtà e devo dire che la mia scuola dal punto di vista del digitale è sempre stata attenta un po perché io spingo tantissimo ma soprattutto perché noi da da anni abbiamo un blog della scuola che parla di didattica dei quindi ciò che fanno i ragazzi con le loro insegnanti e gli insegnanti anche si sono messi in gioco per diventare dei piccoli reporter di classe no le docenti perché vanno a rendicontare tutto ciò che viene fatto a livello didattico e poi trasportato nel blog della scuola stessa quindi devo dire che le basi già c'erano adesso bisogna soltanto formalizzarle e estenderle però ecco la strada è ancora in salita penso anche se abbiamo fatto grandi passi bene e l'ultima domanda è relativa invece ai colleghi no capiterà di sicuro anche a te durante anche le formazioni ma anche con i colleghi che ha intorno se capitasse che un collega ti dicesse io vorrei intraprendere questo percorso di innovazione a scuola da dove secondo te posso partire tu quale consiglio ti senti o quali consigli ti senti di dare beh non è facile consigliare questo non è semplice però direi che la prima cosa di coltivare la curiosità perché perché se noi siamo curiosi di conoscere siamo curiosi di scoprire e quindi scoprendo nuove realtà scoprendo nuove attività da fare si può crescere a livello insomma di innovazione didattica quindi secondo me come punto di partenza io mi consiglio il mio consiglio è quello di sviluppare appunto la curiosità la curiosità di apprendere tant'è che mi ho fatto un pochino anche il mio slogan no nelle mie nelle mie classi oltre che imparare che è un bellissimo viaggio che trovate insomma che lo scrivo spesso ai ragazzi parlo di un viaggio nella conoscenza nella conoscenza e nel nel sapere no quindi in tutto ciò che si può apprendere perché noi effettivamente facciamo questo viaggio da quando nasciamo fino a tutto il nostro percorso di vita siamo in viaggio per conoscere apprendere istintivamente formalmente informalmente è il nostro il nostro modo di essere quindi apprendiamo sempre ma come apprendiamo in modo significativo attraverso quelle esperienze che ci emozionano ecco una parola che a te piace tanto le esperienze che ci emozionano ci rendono ci coinvolgono e quindi apprendiamo molto di più e la curiosità è una di quelle molle che ci fa emozionare ci fa apprendere sempre di più quindi anche colleghi che mi dicono io adesso ho paura come faccio che devo fare per stare in una classe 4.0 e io la prima cosa che dico loro state sereni state tranquilli perché basta avere un pochino di curiosità andare a spulciare nel mondo dell'informazione scolastica e si trovano già gli spunti da adattare alla propria alla propria attività quindi il motore di tutto è la la curiosità che ci muove ci fa cercare e poi affidarsi a delle persone che magari possono guidare no il proprio percorso quindi ecco l'elemento fondamentale è coltivate la curiosità piccoli e grandi vale per tutti e tu la coltivi perché sei famosa tra noi lo possiamo dire marilena dovete sapere che è una collezionista seriale di certificazioni e badge per le varie applicazioni di dati si facciamo la gara io e debbora no 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 marilena ce le ha tutte tutte ok se avete bisogno chiedetele pure quale quale ve ne presto ve ne presto qualcuno però ha ragione ha fatto il collegamento giusto io sono talmente tanto curiosa che appena non lo so leggo sul web che esiste una piattaforma didattica che può fare x cose io la devo andare ad aprire perché se quelle x cose si sposano con la mia visione no di didattica e di metodologia in classe io ho arricchito la mia metodologia io ho arricchito la mia didattica poi lo porto in classe che dicevi no del del non annoiarsi il fatto di provare sperimentare anche noi docenti no nuove cose ci dà quello stimolo no ad andare avanti in maniera e portiamo queste cose in classe con gli occhi dei bambini quando scartano le gare a natale infatti i ragazzi più grandi quest'anno mi dicevano mi hanno chiesto all'inizio dell'anno professoressa quale app useremo quest'anno perché loro sanno che durante l'estate no magari uno curiosa di qua e di là e poi trova l'opportunità da portare da portare in classe perché come dicevamo prima la tecnologia non è l'innovazione l'innovazione siamo noi siamo noi che facciamo innovazione nella nostra classe la tecnologia ci viene a supporto ci crea quell'ambiente confortevole con quell'ambiente che ci aiuta a coinvolgere i ragazzi però l'innovazione è nostra quindi nella scuola non è tecnologica ma è il materiale umano che deve portare innovazione nella scuola con curiosità entusiasmo voglia di fare e poi ci pesa di meno no il lavoro che facciamo magari lavoriamo il doppio il triplo debora lo sappiamo no che lavoriamo lavoriamo di più però lo facciamo con entusiasmo e vedendo poi la gioia nei bimbi te più piccoli io un pochettino più grandi po di poco però vedendo nella gioia nell'apprendere eh penso che sia tutto poi poi ripagato sì bene vuoi aggiungere qualcosa riguardo a questo argomento perché le domande erano abbastanza fisse no però se ti è venuto in mente qualcosa vuoi aggiungere qualcosa su sempre no inerente all'innovazione a scuola sei libera di dire quello ecco è una riflessione che farei con te adesso ti coinvolgo ti stravolgo la trasmissione una riflessione che farei con te è visto che si parla di innovazione no nel in questo in questa tua puntata però se ne parla veramente tanto forse troppo in alcune situazioni adesso con tutto questo questa organizzazione anche del team dell'innovazione nelle scuole portato dal PNRR come ci dovremmo organizzare che idea di scuola ci siamo fatti ecco questa è una domanda che magari uno può tirare fuori che idea di scuola abbiamo secondo quello che ci stanno proponendo no il team dell'innovazione deve progettare deve fare per prendere fondi e ricreare una scuola nuova quella scuola 4.0 di cui si parla eh parlavo con una collega con una nostra collega dice io ho già un'idea della mia scuola è già un bel punto di partenza perché non è semplice io ho un'idea della mia classe futura cioè il mio futuro ciclo partendo da una prima mi piacerebbe lavorare sull'innovazione anche degli spazi nella scuola quindi un discorso sicuramente a me lo sai piace tanto il discorso del un dispositivo per ogni bambino già a partire dalla terza primaria ok eh l'ho sperimentato non continuativo forse il discorso del continuativo è meglio nel tuo ordine di scuola però noi una volta la settimana lavoravamo con il computer in classe e ho visto sbocciare talenti e uscire quei bambini che di solito erano molto silenziosi molto taciturni riuscivano ad esprimersi attraverso l'aiuto attraverso questo strumento anche no però mi piacerebbe immaginare la mia prossima prima con una modalità diversa da quella a cui siamo abituati no alla classe coi banchi mi piacerebbe destrutturare un po' eh mi piace davanti l'idea dell'aula dell'insegnante no dei bambini che si spostano ma questa cosa mi mi piacerebbe però lì il problema qual è che non posso decidere da sola e quindi bisogna far entrare un po' a sistema eh le varie idee e quindi forse la la sfida di questo PNRR è proprio eh avere dei tempo per confrontarsi e progettare insieme a scuola sì e questo è quello più difficile no perché la nostra scuola non è pronta ci sono istituti comprensivi anche qui nella mia provincia che hanno utilizzato questo sistema dei laboratori però non siamo pronti devi destrutturare tutta la scuola completamente ed è un processo abbastanza lungo e impegnativo devi avere appunto dei docenti illuminati che ti seguono e ti supportano però è anche la mia idea di scuola a me piacerebbe avere la mia aula organizzata in un determinato modo con determinati strumenti che possa essere da supporto alle varie attività e poi sì i banchi i banchi ormai stanno stretti ai ragazzi quando prima dicevo che l'innovazione è stare attenti anche al mondo che cambia eh il mondo è cambiato tanto dalle scuole del 1800 che stavano sui banchi quindi è vero sì prima erano i banchi di legno già con la sedia incorporata unici adesso sono piccolini con le sedie mobili quindi qualcosa abbiamo cambiato però è sempre un banco se cambia la società se cambia il modo di apprendere devi cambiare anche gli spazi quindi ecco su quello siamo ancora un po troppo indietro io ragiono molto spesso su questa cosa e faccio ragionare anche alcuni colleghi sul fatto di eh immaginare se fossi io a volte mi metto nei panni dei bambini che ho davanti perché ho una buona memoria ricordo abbastanza come ero da bambina ed ero una bambina abbastanza vivace quindi immaginare di tenere seduti tante ore soprattutto i bambini ehm fringo non sono diciamo una persona cioè riesco a stare tanto seduta adesso da adulta però l'idea di anche quando faccio corsi di formazione da studente a me piace muovermi sperimentare spostare eh cambiare no eh postazione e vedo che questo quando lo faccio in classe attiva eh una parte dei bambini che diversamente rimane sopita oppure magari stanno bravi fermi e zitti ma stanno pensando ai cavoli loro noi diciamo bene oggi è andata bene e invece non hanno ascoltato capito è andata bene perché sei tutti zitti buoni in realtà sempre con le giuste regole no quindi non ci vuole il rumore perché altrimenti guai però con il movimento con il cambio di ritmo non so se hai notato tu anche questo stile dell'academy noi non spoileriamo niente però questo stile incalzante dove hai questa è la lezione segmentata quella che sperimento delle volte in classe quella roba mi piace anche alla primaria perché vedo che ottengo molti risultati perché rimane quell'attenzione no sempre un po' attiva e il fatto del sempre di mettere al centro il bambino protagonista quando l'hai detto prima mi è venuto in mente il maestro Mario Lodi che voglio dire non è proprio dell'altro ieri sì a cui hanno appena dedicato didacta Catania quindi voglio dire non ci stiamo inventando niente però bisogna stare attenti perché ci siamo persi qualche pezzo perché no la teoria ce le abbiamo quelle giuste da applicare il problema è che a volte non lo so non viene non viene applicato contestualmente quindi la teoria con con la pratica il fatto che questi due anni siamo stati un pochettino più legati prima a casa a distanza poi ritornati in classe con quel banchetto striscia rossa per terra che non dovevi spostare il banchetto la sedia eccetera quindi veramente ingessati adesso che si può ci si può muovere un pochino di più i ragazzi non vedono l'ora di avvicinare il banco quando lavorano insieme prima li facciamo lavorare insieme ma a distanza perché per fortuna le applicazioni google e anche le altre ci permettono di farli lavorare anche a distanza ma loro vogliono anche comunicare in presenza e avvicinare quei banchi cioè avvicinare quella quella distanza quindi ecco le il setting è importante infatti credo che un punto fondamentale del della scuola 4.0 sia proprio il setting d'aula progettare le scuole diverse quindi la nostra idea è un po' simile no avere laboratori poterci dedicare e personalizzare in luogo dove andiamo poi a creare la nostra la nostra attività poi con i bambini più piccoli ancora di più ne sentite la necessità io vedo le prime che sono quelle che arrivano dal dalla primaria hanno proprio difficoltà a stare nel proprio posto a mantenere fermi tante ore perché poi passano dalle 5 alle 6 ore alla scuola alla scuola secondaria quindi è veramente un grande sacrificio va bene dai allora vedremo cosa succederà io sono curiosa e non vedo l'ora di poter mettere in pratica qualcosa di quello che abbiamo studiato in tanti anni e soprattutto in modo molto concentrato gli ultimi due perché è stata un'ondata per tutti anche questa sì è stata diciamo una un momento di disorientamento per tanti io devo dire la verità a me ha arrecchito tantissimo questo periodo poi l'esperienza con voi e con tutte le persone che abbiamo conosciuto in questi in questi anni ma nel 2020 che abbiamo iniziato insomma che era marzo la pandemia il primo lockdown e noi la google workspace ce l'avevamo dal 2017 quindi io erano già due tre anni che la utilizzavo con le mie classi quindi loro siamo entrati subito online il 4 marzo chiuse le scuole il lunedì 9 noi già eravamo collegati in modo molto semplice perché era la prima volta no che utilizzavamo mit con i ragazzi quindi all'inizio anche un po per prove tentativi ma alla fine siamo riusciti a portare la scuola a distanza e quindi farla sentire vicina ai bambini più piccoli e ragazzi più grandi e questo penso che sia stato un grande valore della scuola italiana ma penso in tutto in tutto il mondo di riuscire a stare vicino ai ragazzi in un modo o nell'altro che prima ma che dopo però anche in un momento di difficoltà come sono stati gli anni che abbiamo che abbiamo passato quindi facciamo tesoro e andiamo e andiamo avanti vedremo cosa succederà ancora perché io vedo 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 laggiù in fondo bene comunque questa innovazione questa idea bellissima delle tue delle tue interviste e grazie ancora di avermi invitato una bellissima esperienza ci vediamo spesso salutiamo il simbico e seguite marilena sul suo canale vi metto il link in descrizione grazie grazie debora ciao a tutti